Adesso però continuiamo a parlare del prodotto che abbiamo nel nostro meraviglioso paese. Parliamo dell'artigianato italiano che è un universo in grado di stupirci ogni volta che vediamo una donna, un uomo al lavoro. E allora vediamo che cosa ha realizzato per noi Massimo Biagini. Questo è un posto magico dove manifattura, formazione e cultura si fondono in una realtà assolutamente unica al mondo. Siamo nati nel 1906 grazie a Giuseppe Lisio che formò questa manifattura all'insegna della ripresa dell'eccellenza italiana rinascimentale. I tessuti arrivano in varie parti del mondo e soprattutto all'alta moda, all'arredamento anche di palazzi storici. Noi oggi siamo qui grazie anche al progetto Apriti Moda. Questo è il terzo anno e siamo molto contenti perché riusciamo a promuovere e comunque a far vedere alle persone cosa significa tessere un belluto, un broccato e l'eccellenza italiana in questo senso che effettivamente poi va in tutto il mondo. È molto bello rivolgersi ai giovani, ai ragazzi e alla formazione di queste nuove generazioni perché sono una linfa vitale per tutti noi. Ogni centimetro è una cosa unica perché in ogni ora siamo diversi, quindi quando tessiamo siamo sempre in evoluzione. Un pezzo di stoffa è proprio unico. Un pezzo di stoffa è un po' di stoffa. Un pezzo di stoffa è un po' di stoffa.